Avellino in trasferta il 23 gennaio, Virtus Francavilla in casa il 30, Turris al Veneziani il 2 febbraio, poi la trasferta al Picerno del 6 febbraio e la sfida interna contro il Bari del 12. Cinque sfide in 20 giorni, quattro delle quali contro le primissime della classe. Sarà una ripresa da brividi per il Monopoli che il 23 gennaio tornerà in campo al partenio di Avellino contro i bianco-verdi Irpini. 37 punti per la squadra di Colombo, 35 per quella di Braglia che non si vorrà far sfuggire l'occasione del sorpasso in casa. Nelle file dell'Avellino gioca l'ex Carriero, la formazione bianco-verde del presidente D'Agostino e del direttore sportivo di Somma sta cercando di fare un mercato importante per continuare la rincorsa al Bari e cercare di arrivare al primo posto al termine della stagione regolare. Il Monopoli non poteva avere avversario peggiore alla ripresa, dal canto suo però la squadra di Colombo sta lavorando forte anche delle due negativizzazioni nel gruppo squadra che porta solo a tre il numero degli attuali positivi. Poi il derby contro la Virtus Francavilla, una partita da sempre molto sentita contro una delle squadre più in forma del campionato che Taurino sta portando ai massimi livelli. Il 2 febbraio arriva la Turisti di Caneo con il suo 3-4-3, poi la trasferta sul campo del Piceno di Colucci che nelle ultime partite è un andamento da playoff e la sfida interna contro il Bari del 12 febbraio, sfida ad altissima quota che misurerà le vere ambizioni di questa squadra.